Una grande soddisfazione, un punto di ripartenza, non un punto d'arrivo, perché comunque sia di sangue e di donatori abbiamo sempre e costantemente bisogno. Parola del presidente del gruppo Fratres di Prato, Alessandro Gavagni, che ieri ha presieduto i festeggiamenti per il cinquantesimo anniversario dalla nascita dell'Associazione in Città. Davvero in tanti, oltre 300 persone, hanno partecipato a questo appuntamento svoltosi tra la cattedrale, dove è stata celebrata la messa presieduta dal Vescovo Nerbini e Palazzo Vescovile. Per ringraziare gli amici pratesi per il grande impegno erano presenti il presidente nazionale Sergio Ballestracci e quello regionale Luciano Verdiani. Voglio approfittare dell'occasione per fare un appello accorato ai giovani, abbiamo bisogno dei giovani, i giovani sono la nostra speranza, se vogliamo continuare le nostre attività loro ci devono dare una mano. L'amministrazione comunale ha partecipato in forma solenne con il sindaco Biffoni e l'assessore alla salute Biancalani, con loro anche il presidente della provincia Francesco Pugelli. C'erano anche i vertici della misericordia di Prato, guidati dal proposto Gianluca Mannelli, perché la Fratres è nata in seno al movimento delle misericordie e sul nostro territorio è presente in ben 18 sezioni su 26, per un totale di oltre 2000 soci attivi. Anche il Vescovo Nerbini, nell'Omelia della Messa, ha ricordato il legame tra le due associazioni e poi ha sottolineato la bellezza del significato del nome Fratres. Il sangue è il segno della vita nel senso pieno e vero della parola, io ti do parte di me, ti do la mia vita e credo che questo ecco si riallaccia a quel gesto che tra un po' compiremo, prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue. Se vogliamo all'origine di tutti i doni anche in questo senso c'è Lui che ci fa vedere come si dona la vita. Un momento di grande emozione è stato quello dell'austensione straordinaria del Sacro Cingolo Mariano, chiesta dai vertici Fratres come fonte di ispirazione e protezione per il proseguo del cammino. Infine ricordiamo la prossima giornata di raccolta sangue questa domenica 20 ottobre dalle 7 alle 11 presso l'unità di raccolta di Prato che si trova all'interno della sede della Misericordia in via Galcianese. Per informazioni e prenotazioni 0574 609730